Buongiorno a tutti, eccoci pronti per l'attesissimo video di riepilogo settimanale di quanto è accaduto sui principali listini azionari europei e americani, poi siccome diversi di voi mi chiedono anche di analizzare magari Nikkei e Anseng, in questo riepilogo settimanale ci metto anche questi due indici asiatici. È stata una settimana molto, molto importante. In realtà i primi due giorni della settimana non sono stati, a mio avviso, così significativi. Il cambio di passo c'è stato da mercoledì e non tanto perché abbiamo comunque chiuso l'ottava, come dicono quelli bravi, in rialzo su tutti i principali listini europei e americani, ma soprattutto perché abbiamo finalmente visto da mercoledì un ritorno dei volumi. e vorrei proprio partire da questo. È un dato che dovete sempre tenere in grande considerazione. Ne ho parlato anche ieri nel podcast Trading Selvaggio che pubblico sul canale ogni sabato col mio sodale Livio. Lunedì 24 luglio 1.719. Martedì 25 luglio 1.777. Mercoledì 26 luglio 2.643. Giovedì 27 luglio 3.633. Venerdì 28 luglio 3.125. Quindi negli ultimi tre giorni c'è stato sicuramente una crescita dei volumi molto importante e questo ha permesso anche a chi come me vive di trading di operare molto di più. So che alcune volte siete, alcuni di voi sono interessati anche a questo dato. Io nell'ultimo periodo avevo ridotto molto la mia operatività, adesso sono tornato a fare più di 50 eseguiti al giorno. Ieri Rottins, lo cito così è contento, ha fatto 415 eseguiti in un giorno anche se lui è ovviamente irreplicabile. Ma quello che più conta è diciamo meno difficile trovare delle occasioni di trading. Partiamo però come nostro solito dagli indici e qui si parte inevitabilmente dal Dow Jones, vi devo però fare una premessa perché vorrei che capiste. Non è tanto importante la variazione giornaliera, in questo caso magari guardiamo anche quella settimanale, di ogni singolo indice quanto l'impostazione tecnica. Adesso magari facciamo una scelta diversa scelta diversa dal solito, l'indice mondiale più forte è diventato il DAX. Perché? Perché il 16 giugno aveva toccato un nuovo massimo storico a 16.427, vi metto magari anche un time frame mensile così lo vedete meglio, vedete questo è il DAX dal 1988 ad oggi e nella seduta di venerdì ha fatto un nuovo massimo storico a 16.490. Ovviamente un'impostazione tecnica così forte lascia prevedere che il DAX sia pronto per ulteriori rialzi. Però attenzione perché come vi facevo notare già siamo a 87 di stocastico, l'RSI è ancora a 64 ma quando entrerà in ipercomprato anche l'RSI probabilmente ci sarà almeno un consolidamento anche sul DAX. Per farvi capire che cosa vi ho fatto questo esempio? Che il DAX di settimana fa più 1,81 quindi meno per esempio di quanto ha fatto il Nasdaq, meno di quanto poi lo rivedremo tra poco ha fatto il Futsimib, prendiamo il Futsimib un attimo, vedete il Futsimib ha fatto più 2,45 però nonostante il breakout del Futsimib sia stato comunque importantissimo sul time frame settimanale, siamo tornati ai livelli di giugno, luglio e agosto, anzi scusate luglio, agosto e settembre 2008, però il DAX addirittura ha fatto nuovi massimi storici. Veniamo adesso al DAO. Allora la situazione è ovviamente molto interessante perché siamo su un'area di massimi, vedete mercoledì 35.633, giovedì 35.645, venerdì 35.565 ma candele inside, questo cosa significa? Che siamo in un nuovo trading range veramente molto stretto da 5-6 sedute, se vogliamo comprendere anche quella del 21 di luglio. Quindi al momento ipotizzare una direzionalità o a rialzo o a ribasso non è facilissimo. Quello che io mi limito a notare è l'inforti per comprato sul DAO perché lo stocastico è 87 e l'RSI è 92. Quindi anche se rimane possibile un nuovo massimo di periodo e vi avevo già indicato come target la seconda settimana di febbraio del 2022, 35.824, in realtà non possiamo escludere anche una fase di consolidamento, sempre e solo, non perché siamo in prossimità di un'inversione di trend, ma perché comincia a essere veramente molto alto l'ipercomprato su indicatori oscillatori. Se il Dow Jones dovesse correggere, anche qui ve l'ho già fatto presente diverse volte, ma lo ripeto volentieri, il target può arrivare fino al massimo del 18 di luglio 34.986, dove è presente un micro gap. Standard & Poor's 500, la situazione è più o meno analoga, anche se qui il trading range è probabilmente un po' più ampio a livello di sedute perché siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sedute. Sicuramente la giornata di giovedì è stata molto negativa perché c'è stata questa engulfing bearish veramente significativa, soprattutto a livello di range. Venerdì abbiamo fatto una candela inside, il trading range è compreso tra 4.514 minimo del 18 di luglio e 4.607 massimo del 27 di luglio. Come per il Dow c'è un ipercomprato meno evidente perché lo stocastico sia 86 ma l'RSI a 71, quindi vale il discorso fatto ovviamente già per il Dow. non possiamo escludere un nuovo massimo di periodo, direi fino a 4.637 massimo della prima settimana di aprile del 2022, però allo stesso tempo, visto che comunque anche lo Standard & Poor's è molto tirato, in caso di perdita direi più che altro di 4.514 appunto, potremmo ritornare fino a 4.489 e poi abbiamo due gap lasciati aperti, micro il primo sul massimo del 12 di luglio 4.488 e poi 4.433 sul massimo dell'11 di luglio. Nasdaq Composite, anche qui siamo di fronte a un trading range, vedete che in questo caso è molto facile identificare l'area di supporto sui 14.000 punti, al rialzo invece il massimo di periodo è quello del 19 di luglio, 14.446. Io continuo a vedere in questo caso, nonostante la buona seduta di venerdì più 1,90 per il Nasdaq Composite, leggermente più difficile un breakout al rialzo, però sugli indici americani non vi nascondo che sono più in difficoltà rispetto a quelli europei nel dare una valutazione a livello di uscita al rialzo o uscita al ribasso. Prendiamo comunque un time frame settimanale e vediamo che i target successivi sono 14.534, 14.646. Ci riferiamo alla prima e seconda settimana di aprile del 2022. A livello invece di segnale di alert è ovviamente la perdita del minimo del 24 di luglio 13.997. Anche qui come per lo Standard & Poor's 500 abbiamo due gap da chiudere, il primo a 13.963, il secondo a 13.774 e sono come al solito rispettivamente il massimo del 12 di luglio e il massimo dell'11 di luglio. Spostiamoci sul Nasdaq 100, vedete che la configurazione tecnica è più o meno la stessa, anche qui siamo in trading range. Il minimo del trading range è 15.374, minimo del 24 di luglio, il massimo è 15.932, massimo del 19 di luglio. Al rialzo i target come vi avevo già fatto a vedere sarebbero davvero molto molto ambiziosi perché il primo target è relativo alla prima metà di gennaio del 2022, 16.017, poi abbiamo addirittura un 16.513 e parliamo della prima settimana di gennaio del 2022. Livello da monitorare per un'eventuale correzione ovviamente 15.374, come per il Nasdaq Composite abbiamo due gap da chiudere, 15.364 e 15.135. Siccome me lo chiedete in tanti scrivendomi anche via mail a info-andrea-cartisano.it vediamo anche il Russell 2000 che almeno una volta a settimana desidero fare. Anche qui abbiamo un trading range piuttosto definito con una curiosità, che la candela di giovedì è talmente ampia con un minimo a 1.949 e un massimo a 1.994 che contiene praticamente le sette precedenti e quella di venerdì. per cui il livello chiave per il breve è proprio 1.949 a ribasso con in caso di violazione un primo target a 1.926, un secondo a 1.920 e poi il gap da chiudere a 1.915 sul massimo dell'11 di luglio. A rialzo sopra 1.994 dobbiamo andare a prendere un time frame settimanale e vediamo che un primo obiettivo è questo, parliamo della prima settimana di febbraio 2023-2007 e poi abbiamo seconda metà di agosto 2022-2030. Di certo rimane la sottoperformance del Russell rispetto soprattutto a Standard & Poor's 500 e Nasdaq da inizio anno. Vediamo che il Russell 2000 da inizio anno è a più 12,5, guardiamo il Nasdaq 100 che è addirittura a più 44%, il Nasdaq composite più 36,79, lo Standard & Poor's più 19,34, il Dow Jones è la pecora nera più 6,98, per cui in realtà l'indice peggiore come rendimento da inizio anno limitatamente agli indici principali statunitensi è proprio il Dow Jones. Veniamo adesso al DAX, ve l'ho fatto già vedere in apertura di video, addirittura nuovi massimi storici. Siamo 87 di stocastico e 64 di RSI come vi avevo già ricordato prima, quindi non ancora in ipercomprato per l'RSI, in forte ipercomprato per lo stocastico. Ovviamente se io tradassi il DAX e non lo faccio comincerei comunque a cautelarmi con un stop profit nel caso facessi ovviamente il futures sotto il massimo del 16 di giugno. A questo punto una correzione, un consolidamento potrebbe arrivare fino a 16.131 e poi in area 16.000. Al momento non vedo però imminente una correzione, sicuramente non credo però, sapete che mi piace espormi, dare il mio parere come vedo io il mercato, poi ovviamente voi dovete decidere con la vostra testa e credo che possa proseguire per magari ancora due o tre sedute questo rialzo, poi diventerebbe un ipercomprato meno sostenibile e mi immagino possa iniziare una fase di consolidamento. Il caccarant non partecipa alla festa in maniera così evidente perché, e è un tema che ho già affrontato nel podcast Trading Selvaggio con Livio, c'è stata la seduta di mercoledì che ha inficiato ovviamente molto la settimana, nel senso che c'è stato questo, secondo me neanche profit warning, questa reazione non positiva da parte degli investitori rispetto ai ricavi preliminari di Louis Vuitton. Poi ho cercato di documentarmi il motivo che sembrerebbe legato alle vendite in USA. Nonostante questo ha comunque chiuso in area di massimi la settimana, può nella prossima ritornare fino al massimo del 19 di maggio che è 7523, ci sarebbero a portata di mano, nel senso non così distanti nemmeno i massimi storici del 24 di aprile 7581, però attenzione perché qui siamo già in ipercomprato e sopra 7523, pur potendo raggiungere 7581, indubbiamente stocastico e RSI passerebbero in fortissimo ipercomprato. Come si può evolvere la situazione? I target a rialzo, ve li ho già fatti vedere, in caso di consolidamento diventa importante il minimo di giovedì 7340, poi abbiamo le medie mobili a 100, 7307, a 50, 7289 e poi si arriva al 7251 minimo di mercoledì che peraltro non credo possa perdere la prossima settimana. Eurostox, anche qui c'è stato un movimento interessantissimo con una situazione tecnica che assomiglia molto a quella del nostro Futsimim perché dobbiamo addirittura andare indietro di 15 anni per ritrovare dei livelli analoghi. Sono già stati superati i massimi di gennaio 2008, adesso dobbiamo andare a dicembre 2007 e poi a ottobre 2007. Nella fattispecie ottobre 2007 abbiamo un 4489, abbiamo fatto 4476, quindi in realtà anche i livelli di dicembre 2007 sono stati superati. E qui c'è a portata di mano un ritorno sui massimi storici che sono stati toccati a luglio 2007 a 4557. A livello di indicatori oscillatori abbiamo uno stocastico 82 e un RSI a 71, quindi sicuramente siamo in ipercomprato, però non vedo al momento un tentativo di correzione per le prossime sedute. Al limite potrà esserci un ulteriore, come viene definita in maniera poco tecnica, gamba rialzista per poi trovarsi in una situazione in cui probabilmente si troverà il DAX, diventerà un ipercomprato insostenibile per il breve, ci sarà una correzione, ma non vi nascondo che potrebbe anche il 4420 come area fare poi da forte supporto statico, essendo stata area 4420, una forte resistenza statica. Eurostox banks sulle banche sono leggermente meno ottimista perché innanzitutto venerdì ha fatto un massimo a 114.54, quasi sul primo target che vi avevo indicato il massimo del 10 di marzo 114.93, poi abbiamo la chiusura del gap lasciato aperto sul minimo del 9 di marzo 116.37. Siamo qui in fortissimo ipercomprato perché lo stocastico 92 e l'RSI 85, la candela di venerdì è oltretutto una shooting star quasi gravestone d'oggi per cui un minimo di ritracciamento fino a 112.03 massimo del 13 di marzo che è un supporto importante può essere tranquillamente raggiunto ma si potrebbe anche ritornare poco sopra area 110. Vi ripropongo quello che ho già fatto vedere nel podcast Trading Selvaggio, questo è un articolo tratto da Milano Finanza, BCE la domanda di prestiti all'impresa dell'eurozona scende in minimi da 20 anni, in forte calo anche le richieste di mutui. È vero che gli stress test, come ricordava Livio, delle banche italiane sono stati più brillanti rispetto alle altre banche europee. La mia domanda, sapete come la penso, io non ho beneficiato, non sono stato in grado di beneficiare del rialzo dei titoli bancari dell'inizio anno perché io continuo a non spiegarmi come siano possibili bilanci così incredibili, è quasi il caso di dire, di fronte a domanda di prestiti da parte dell'impresa crollata nel secondo trimestre dell'anno, meno 42%, dopo il meno 38 del primo trimestre, scendendo al minimo storico dall'inizio dell'indagine nel 2003. Carano anche le richieste di mutui, meno 47% nell'ultimo trimestre, ma meno 72% e meno 74% nei trimestri precedenti. Allora mi chiedo, al di là che il margine sia enormemente aumentato di fronte a questo crollo dei finanziamenti, quindi siamo di fronte a un credit crunch certificato e di fronte alle richieste di mutui così in calo come possano essere stati raggiunti questi obiettivi da parte delle banche, mi sembra veramente difficile da spiegare. Io continuo a sostenere che ci sia troppa discrezionalità nel dichiarare a bilancio UTP piuttosto che NPL. E non vado avanti perché ovviamente non sono un commercialista, non sono un laureato in economia e commercio, per cui vi mostro la mia visione, però chi ha creduto nelle banche e ha fatto bene, io ho ammirato, per cui è giusto che voi continuiate ovviamente a ragionare con la vostra testa. Fuzzi Meal Futures, in questo caso abbiamo toccato addirittura un nuovo massimo di periodo giovedì a 29.835, superiore addirittura a quella serie dei tre massimi allineati di luglio, agosto e settembre 2008 e mi riferisco al 29.760, poi abbiamo chiuso la settimana in realtà a 29.635 ma con una candela inside. Qui il pericolo qual è? Che siamo in forti per comprato, abbiamo 91 di stocastico e 78 di RSI, vi ho fatto vedere come potesse essere, diciamo, fin troppo ampia la strada che c'è da percorrere fino alla successiva resistenza statica importante, mi riferisco a giugno 2008, ovvero 33.300, vi ho già detto che non escludo un breakout anche di area 30.000 ma poi è necessaria una fase di consolidamento per scaricare quello che a quel punto sarà a mio avviso un ipercomprato insostenibile e un ritorno fino a 28.580 non sotto. Se teniamo 28.580 e poi ripartiamo, questo è un mercato con mia estrema sorpresa che potrebbe anche andare nei prossimi mesi al target che vi ho indicato di area 33.300. Me lo spiego assolutamente no, sto cercando di adeguarmi a quanto sta accadendo. Adesso dobbiamo fare la nostra consueta carrellata sul Futsimib dalla A alla Z, facendo una premessa. Analizzare dal punto di vista tecnico ogni singolo titolo per chi come me lo fa da oltre 20 anni non è particolarmente complicato, anche se do ovviamente una mia lettura che può non essere in linea con quello che pensano molti di voi, ci mancherebbe. Però una premessa questa settimana ve la devo fare. C'è un pesante condizionamento da parte delle trimestrali barra semestrali uscite negli ultimi giorni, perché la maggior parte dei titoli del Futsimib hanno rilasciato i propri dati trimestrali barra semestrali e non sempre il mercato si è comportato, a mio avviso, in maniera razionale. Adesso vedremo appunto ogni titolo nel dettaglio, però mi viene in mente il miglior trimestre della storia di Case New Holland e titolo solo venduto e addirittura sospeso per eccesso di ribasso e che fa minimi ancora più in basso dopo la riapertura. C'è stato a mio avviso un ottimo bilancio di Prismian, seppure c'è sempre il limite del debito che pur diminuito è ancora di 2 miliardi di euro e anche Prismian comunque non ha risposto bene a dati di bilancio piuttosto buoni. Fuori dal Futsimib mi viene in mente perché è un titolo che io in portafoglio, seppur con una quota marginale, una Merteklimont che a mio avviso ha pubblicato degli ottimi dati ma il mercato ha penalizzato il titolo, per cui questa premessa era doverosa e ovviamente, come vi ho spiegato, sta condizionando in maniera decisiva l'andamento dei titoli del Futsimib. A2A, io non ho apprezzato oltremodo i dati di A2A però vi posso dire che io come vedete non ho appunti, questo è vuoto, cioè vado tutto nella mia memoria, mi sembra che inizialmente fosse stato preso bene il bilancio, tant'è che il titolo è andato a fare un massimo venerdì a 1,7285 che è il massimo di periodo, perché era stata alzata, è stata alzata la guidance, poi addirittura è andato a 1,673 e poi è chiuso con una spinning top a 1,703. La verità sta nel mezzo, cioè è che A2A è su un'area di resistenza molto forte, area 1,70 può ancora fare dei massimi superiori agli attuali livelli, però direi 1,7595, 1,8175 non credo molto oltre e bisogna anche fare attenzione a un possibile consolidamento sul titolo, perché vedete che già venerdì ha rimbalzato dalla rialzista, partita dai minimi del 26 di maggio, quindi non possiamo nemmeno escludere un ritorno fino a 1,65, 1,64 e 1,65 e poi sulla media mobile a 50, 1,64 al rotondo. Amplifon è un altro titolo vittima, tra virgolette, della propria trimestrale, perché questa è stata clamorosa quasi come reazione, perché ne abbiamo parlato anche nel podcast che avete potuto vedere ieri, sperando che l'abbiate visto in tanti. Ricordo bene, perché è un titolo che seguo, la sospensione a rialzo subito dopo i dati, mi riferisco alla seduta di giovedì, e poi il titolo è vero che ha le medie mobili a 50, 32, 89 e 132, 67, che hanno respinto questo rialzo così istantaneo alla pubblicazione dei dati, però poi il titolo è andato a fare 30,65 e ha chiuso con una spinning top a 31,58, quindi io sono ancora moderatamente positivo sul titolo, perché comunque si sta mantenendo sopra la trendline ribassista, partita dai massimi del 14 di giugno, però devo dire che è veramente un andamento quasi schizofrenico e al momento monitorerei veramente il titolo, perché come può tornare fino a 33,72, può andare a fare 30,29 o ritestare la media mobile a 200, che è 29,90, quindi vedete quanto sia più difficile del solito analizzare i titoli sotto trimestrale. Azimut, ecco qui per esempio devo dirvi che invece il trend è molto più definito, è stato chiuso il gap, è stato aperto a 21,53 sul minimo del 9 di marzo nella seduta di venerdì, il massimo del 9 di marzo è stato 22,25, venerdì ha fatto 22,07, c'è ancora spazio per 22,25, 22,32 al limite 22,85, però per esempio qui il bilancio io non l'ho trovato assolutamente entusiasmante e invece il mercato ha premiato il titolo, ovviamente il raggiungimento del target 22,85 come vi dicevo prima è possibile, siamo già però in ipercomprato per cui sappiate che è per essere chiaro come se dato 100 il movimento di rialzo di Azimut è già nell'ultimo 10%, questo più o meno per darvi un'idea, prima di una correzione fisiologica. Parliamo però anche di stop profit per chi ha il titolo, 21,29, 21,23, 21,22, ecco vi dirò già sotto il minimo di venerdì probabilmente se io avessi ancora il titolo in portafoglio perché non fatemi pensare a dove l'ho chiuso io perché se no diciamo commetto un suicidio in diretta però può essere un livello del quale tenere conto. Banca generali, qui la situazione è ancora più positiva. Siamo ormai praticamente venerdì ha fatto 34,7 il 9 di febbraio era 34,7 rimane il 34,97 fatemi vedere mettiamo magari un settimanale in modo da potervi dare un obiettivo superiore a 34,97 direi seconda metà di febbraio 2022 35,64 non vado oltre. Perché non vado oltre? Perché ovviamente siamo 92 di stocastico e 84 di RSI per cui il titolo è impostato ancora per salire però allo stesso tempo comincia a essere molto molto tirato. Allora facciamo una prima verifica. Massimo di giovedì 33,66 minimo di venerdì 33,65 per cui gap aperti non ne sono stati lasciati. È stato chiuso il gap a 33,68 che era rimasto aperto sul minimo del 17 di febbraio. Bisogna però a questo punto valutare anche gli stop profit. 33,56 massimo del 20 di febbraio 33,66 massimo di giovedì 33,65 minimo di venerdì. Direi 33,56 per uno stop profit. Starete notando che a differenza del solito non sto indicando dei livelli dove io probabilmente proverò un rientro. Perché i titoli sono talmente in trend rialzista, talmente ipercomprati che dobbiamo veramente avere pazienza per trovare un punto di reingresso. E adesso è, secondo me, per tutti questi titoli così forti, assolutamente prematuro a farlo. Banca Mediolanum. Anche qui c'è stato un breakout davvero significativo perché vedete che il massimo del 18 di aprile è stato a 8,706 e venerdì ha fatto Banca Mediolanum addirittura un massimo a 8,876. Mi viene in mente il video che avevo fatto per il secondo trimestre sulle mie previsioni. Non ho fatto quello per il terzo trimestre perché per me è un mercato illegibile, quindi ammetto i miei limiti. Una delle poche cose che sono sicuro di aver indicato e aver azzeccato è il risveglio del risparmio gestito e questo sta avvenendo anche a fronte di dati non clamorosamente positivi perché per esempio Asso Gestioni ha pubblicato il resoconto della raccolta sul primo semestre 2023 e c'è stato quasi un decremento di 1,2 miliardi che non sono una cifra pazzesca, però nonostante il momento difficile per risparmio gestito siamo, vedete, su breakout molto importanti, bellissimo quello di Banca Generali, molto bello anche questo di Banca Mediolanum. Target a rialzo. 8,964, 9,202. Attenzione però anche qui siamo in fortissimi per comprato, stocastico 89, RSI 93, quindi bisogna avere sempre il piano B. Abbiamo detto che il massimo precedente, massimo relativo precedente 8,708, minimo di venerdì 8,73, diciamo che se vogliamo essere rigorosi 8,708, se vogliamo darci uno stop leggermente più largo 8,51 e 6. Montepaschi, ecco Montepaschi è un altro titolo abbastanza difficile da leggere in questo periodo perché sembrava dopo la seduta di mercoledì con un massimo che, ve l'avevo già parlato in un video di repilogo serale, che aveva sfiorato la sospensione per eccesso di rialzo, mi sembra che sospendesse a 2,673 e ha fatto un massimo mercoledì a 2,671, sembrava, ripeto, Montepaschi pronta per un'ulteriore accelerazione a rialzo, probabilmente fino a 2,779, massimo del 27 di febbraio. Nelle ultime due sedute, giovedì e venerdì, invece si è messa in laterale in due candele che sono contenute nella candela di mercoledì, quindi questo significa che c'è un minimo di incertezza. Io però prenderei il 2,51,6 come segnale di alert, diciamo che sotto 2,51,6 è probabile un ritorno a 2,461 e poi a 2,39 e mezzo, avendo una media mobile a 50 a 2,327. Vi metto la media mobile a 200 perché su Montepaschi sporca leggermente. Banco BPM, ecco qui dobbiamo essere particolarmente attenti perché non è lo stesso mood, la stessa dinamica per tutte le banche, ieri venerdì per esempio è uscito il bilancio di intesa, intesa ha effettuato un breakout a rialzo. Banco BPM invece ha fatto un massimo di periodo mercoledì a 4,61,5 ma chiudendo a 4,48,6, quindi questa shooting è abbastanza pericolosa, quindi siccome, come sapete, mi piace fornire in maniera trasparente il mio pensiero, al momento direi che è più probabile una fase di consolidamento su banco BPM che può arrivare fino a dove? 4,33,9, chiusura del gap là sotto aperto sul massimo dell'11 di luglio 4,32,7. Mettiamo però un time frame mensile per vedere rispetto ai massimi toccati questa settimana dove ci andiamo a collocare, cioè dove dobbiamo tornare. Abbiamo un 4,54,8 maggio 2016, 4,82 e 25 aprile 2016, questa settimana 4,61, per cui sopra il massimo di maggio ma sotto quello di aprile e poi abbiamo chiuso la settimana in leggera contrazione, per cui su banco BPM sarei meno positivo perché mi sembra che debba andare a chiudere questo gap lasciato aperto a 4,32,7. Biper, diciamo che non è nella stessa situazione di banco BPM, qui è leggermente più difficile da analizzare l'andamento perché abbiamo avuto un forte breakout mercoledì, un nuovo massimo di periodo giovedì a 3,21 e mezzo, però chiudiamo la settimana a 3,13 e mezzo. Prima andiamo a prenderci subito il mensile e vediamo che siamo arrivati su un'area di resistenza veramente molto importante perché vedete che novembre 2019 3,125, dicembre 2019 3,1, gennaio 2020 3,16, febbraio 2020 3,16, quindi qui potrebbe esserci un tentativo di consolidamento come per banco BPM, a quel punto 3,075, chiusura micro gap 3,069 e poi 2,979. Però attenzione, mentre su banco BPM vedo più probabile un consolidamento non posso dire la stessa cosa di Biper. Campari io l'ho tradata al giorno della trimestrale, devo dire che è stata quasi perfetta avendo effettuato un recupero dai minimi di giornata di 11,905, nella fattispecie in intraday era andata anche sotto la media mobile a 111,983, però poi ha chiuso con un hammer a 12,36, qui il titolo è andato in sospensione per eccesso di ribasso, ha fatto un minimo a 12,05, 12,04 prima di sospendere, poi ancora accelerato a ribasso e però ha recuperato andando a quel punto sospesa rialzo attorno a 12,30, 12,35 e poi ha chiuso 12,38. Le due sedute successive, quella di giovedì e quella di venerdì, sono di candele inside, per cui al momento si sta creando un trading range tra il minimo 11,905 e il massimo 12,71 di mercoledì e al momento credo che proseguirà il titolo secondo questa dinamica, ma per quello che posso vedere maggiori probabilità di ritestare la parte bassa del range. Sotto 11,905 bisogna essere molto molto prudenti perché prima avremo un 11,71 e poi un 11,48. Anche qui mercoledì è uscita la trimestrale, ho ricordato nel podcast Trading Selvaggio che ho pubblicato ieri sul canale, un podcast che faccio ogni sabato con Livio, secondo me non è piaciuto il dato sul debito che è salito oltre il miliardo e otto. Altro titolo incredibile è che New Holland che venerdì ha effettuato un vero e proprio crollo, c'è stato un pesante sell off dopo l'uscita della trimestrale che è stato dichiarato essere la migliore della storia, però il titolo purtroppo ha perso la rialzista partita dai minimi del primo di giugno, ha perso la media mobile a 113,19 e in intraday va perso anche quella 50 a 13,08, andando però poi a chiudere a 13,135. Qui la mia impressione è che New Holland debba andare a fare un test almeno in area 12,80, se non tiene 12,80 può fare 12,62 e poi 12,44 e mezzo, ma se dovesse tenere area 12,80 un rimbalzo magari fino in area 13,5 lo può tranquillamente fare, però adesso è più probabile che vada almeno a testare area 12,80. Dia Sorin, altro titolo che è difficile da analizzare perché io lo dico molto onestamente, come mio solito i dati di bilancio non mi hanno entusiasmato, c'è sempre questo discorso ex covid che capisco abbia pesato in maniera incredibile sui ricavi e sulle marginalità, però come vi ho già detto in questa fase, oltre a leggere, perché comunque bisogna sempre farlo, le trimestrali, dobbiamo cercare di capire quella che è la reazione del mercato. La reazione del mercato è stata molto chiara, rottura della trendline ribassista partita dai massimi del 15 di maggio, già nella seduta di mercoledì giovedì sui dati prende il volo, fa una rottura della media mobile a 50, 96,2, della media mobile a 198,83 e va a fare un massimo settimanale venerdì a 102,7. A questo punto il target per le prossime sedute arriva a 104,8 e poi a 106,9 massimo del 15 di maggio. Al momento io uno stop per uscire dal titolo lo metterei abbastanza largo sotto 96,3. Enel. Allora, Enel ha rilasciato questa settimana, ma il titolo non ha avuto dei grossi scossoni nonostante i dati di bilancio piuttosto significativi a livello di marginalità perché ha ridotto il fatturato ma ha aumentato l'utilinetto. Continuo sempre a pensare che il debito sia eccessivo, è ulteriormente salito, siamo a 62 miliardi di Euro. È vero che è stato varato questo piano di dismissioni, però allo stesso tempo le dismissioni sono anche piuttosto indietro. Questa settimana è stata ceduta la controllata ellenica per 350 milioni di Euro. Al momento qui vedo un trading range tra 6,38 e 6,10. Quindi cercherei di lavorare il trading range. Mi stupirebbe un breakout rialzista. È vero che molti mi hanno fatto notare che Flavio Cattaneo sta continuando a comprare azioni ed è positivo, sia chiaro. Però diciamo che non vedo così la possibilità di uno spunto rialzista clamoroso. Magari si potrebbe arrivare fino ai massimi della prima metà di aprile 2022, 6,42 e 2. Eni invece devo dire che è arrivata quasi al target che vi avevo indicato, ovvero il massimo del 17 di aprile a 14,024, però la candela di venerdì non è così. Ha fatto 13,97 venerdì ben augurante. A questo punto non mi stupirebbe un consolidamento con un primo obiettivo a 13,58, un secondo a 13,47. La media mobile a 200 è 13,48. Poi abbiamo un minimo del 20 di luglio a 13,4. Erg clamorosa perché io tra l'altro anche di Erg ho parlato assieme a Livio nel podcast Trading Selvaggio e sono riuscito a tradarla tre volte long venerdì, devo dire con bravura perché ero posizionato correttamente ma anche in maniera piuttosto fortunata perché quando un titolo ti sospende tu lo prendi per esempio a 26,10 e ti riapri direttamente, adesso non mi ricordo se è a 26,40 o a 26,50, siamo 30 tic sopra il prezzo di sospensione, non sei stato bravo ma sei stato fortunato. Poi che tu sia entrato, che io sia entrato bene, ok però la componente fortuna c'è stata. Non è piaciuto il bilancio, più che altro ha abbassato la guidance, ha perso media mobile a 12,6,99, media mobile a 50, 26,64, adesso punta a 25,30. È molto importante e parliamo del minimo del 26 di giugno che tenga 25,30 perché se non dovesse tenere 25,30 il mio timore è che il titolo possa arrivare addirittura in area 23. Abbiamo un minimo su time frame settimanale, seconda metà di terza settimana di febbraio 2022, 22,98. Poi è ovvio che può rimbalzare anche da livelli superiori però il rischio di vedere il titolo lì. Ferrari. Ferrari faccio fatica a capirla in questa fase perché comunque sta disegnando un trading range abbastanza ampio tra 282,6 minimo del 20 di luglio e il massimo del 30 di giugno che è due, anzi scusate, perdonatemi, il massimo del 3 di luglio, il massimo storico è 300. Dovrebbe insomma essere un numero facilmente ricordabile ma mi scuso con voi ma la stanchezza è sempre tanta in questo periodo. Anche se il caldo un minimo di tregua almeno qui nella padania ce lo sta concedendo. Quindi al momento l'ipotesi più probabile è sempre che continui a rimanere in questo ampio trading range, probabilmente portandosi verso la parte alta del range dei massimi storici del 3 di luglio 300, quindi non sopra 300 ma nemmeno sotto 282,6. Fineco. Fineco io vi ho già detto più di una volta ma lo ribadisco perché quando sono fortunato non ho mai problemi ad ammetterlo. Io ho il titolo da 12,6. In questa seduta, quella del 6 di luglio, quando credo uscirono i dati sulla raccolta molto positivi che provocarono questo rimbalzo incredibile del titolo da 11,57 andò a 12,63 e mezzo, se in quella seduta il titolo non mi avesse recuperato io avrei preso l'ennesima, l'ennesimo, ecco deve essere un film degli anni 80, un bimovie, pacco contro pacco e contro pacotto perché avrei dovuto per le regole che mi do chiudere in perdita e mi sarei perso questo incredibile movimento a rialzo che non è ancora finito dal punto di vista tecnico. Può raggiungere il massimo del 27 di aprile, ci siamo arrivati vicinissimi, 14,20 e poi la media mobile a 214,37. Oltre diventa impegnativo perché? Perché siamo 94 di stocastico e 71 di RSI. Può sì arrivare a 14,50 ma ormai bisogna ragionare per chi ha il titolo come me in ottica di stop profit. Io prima di questa settimana avrei deciso per uno stop probabilmente sotto 13,28. Adesso devo assolutamente alzarmelo probabilmente a 13,55. Se ho la fortuna di avere un breakout di 14,20 e magari un target sulla media mobile a 14,37 alzerò lo stop profit a 14,20. Generali. Generali è impostata piuttosto bene. Credo che possa raggiungere nelle prossime sedute i massimi di periodo di 19,67. Allarghiamo un attimo l'orizzonte temporale per vedere i target successivi. Direi che però veramente, e parliamo di pochi tic, il livello chiave è probabilmente quello della prima metà di aprile 2022, che è 19,72 perché oltre si aprono degli spazi veramente incredibili fino a 21,38, 21,55. Quindi 19,67, 19,72 sì. Poi probabilmente siamo in questo caso con uno stocastico a 59 e un RSI a 76. Cosa può succedere? Che su rottura a 19,67 abbiamo subito il 19,72. Può proseguire magari fino in area 20, ma poi diventa tale di percomprato che il titolo necessiterebbe di una fase di consolidamento. Era. Non mi piace quello che è accaduto venerdì, anche se è un po' frutto dell'andamento di giovedì, perché giovedì comunque parte subito in gap, lascia un gap aperto a 2,806 sul massimo di mercoledì, fa un massimo, scusate il gioco di però a 2,90 e venerdì paga un po' le conseguenze, però non va neanche a chiudere il gap, perché il minimo di venerdì è stato 2,81,4. Io rimango ancora positivo su ERA. Credo che possa raggiungere 2,91,8 e poi direi 2,93,8 fino in area 3 il titolo ci può tornare. Vedrei con timore la parità della media mobila 50, 2,79,6. A quel punto si ritornerebbe a 2,72,8 considerato che la media mobila 100 è 2,73,2. Interpump. Interpump è in una situazione interessante perché è rimasta un po' indietro, per cui essendo rimasta indietro, se questa è una fase di accumulo, come mi sembra peraltro abbastanza evidente, e quindi il titolo non deve scendere però sotto 48,69, è possibile un prima di tutto ritest della media mobila 50, 50,65 poi del massimo del 24 giugno 51,14, ma più realisticamente 51,98 massimo del 19 giugno e chiusura del gap lasciato aperto sul minimo del 16 giugno 52,02. Intesa, ecco qui mi fa piacere per gli azionisti di intesa perché hanno sofferto tanto quest'anno il differenziale di rendimento rispetto a Unicredit e invece venerdì finalmente ha dato un segnale molto importante perché il massimo di periodo era stato a 2,603 il 6 di marzo, venerdì ha fatto un massimo a 2,6,215 e una chiusura sopra il massimo precedente a 2,609, unico timore il forte per comprato di breve, ovvero 90 di stocastico, 92 di RSI, per cui seppur possibile un target e ho dovuto prendere un time frame settimanale fino al massimo dell'ultima settimana di febbraio del 2022, 2,75,25, scusate, però attenzione perché ovviamente con un ipercomprato del genere è sempre possibile una bull trap, cosa significa? Il titolo continua a rialzo per una, due, massimo direi tre sedute, poi magari non arriva neanche a target e inizia una correzione che non dovrebbe però estendersi, beh, nell'ipotesi migliore oltreare a 2,60 se il titolo è arrivato a 2,65, 2,70, 2,72, nell'ipotesi peggiore direi 2,51 e 55 minimo del 24 di luglio. Inuit, ecco, Inuit è in una situazione molto interessante perché il titolo ha dato un segnale importante giovedì. Perché ha dato un segnale importante? Perché ha fatto un nuovo minimo di breve periodo a 11,31 ma poi ha chiuso a 11,59, quindi ha dimostrato che area 11,50 per il momento è un supporto statico che sta facendo il suo dovere. Credo che con ovviamente l'esigenza di non perdere l'11,31, possa iniziare una fase di recupero con primo obiettivo mediamobile a 50, 11,80, mediamobile a 100, 11,92 e poi massimo del 19 di luglio che è 12,01. Italgas. Nonostante le utilities non stiano brillando nelle ultime sedute, vedo ancora possibile una prosecuzione del movimento di recupero. Per il momento il titolo è stato respinto dalla mediamobile a 50, 5,39, ma ritengo ancora possibile un obiettivo a 5,46 e mezzo, avendo la mediamobile a 200, a 5,48 e 3 e poi un ritorno sulla mediamobile a 100, 5,56. Iveco invece devo dire molto bene, il massimo di periodo era 8,57 il 14 di luglio, Berndi ha fatto un massimo a 8,626 con chiusura a 8,57,8. Direi che a questo punto i successivi target sono 8,658 massimo della Shooting Star del 4 di aprile e poi 8,83, 8,94 e 9, 8,96 e 8. Vedo il titolo veramente ben impostato. Poi ovviamente se dovesse confermare ancora una forza nelle prossime sedute, l'8,57 diventa ovviamente il livello di stop profit, qui ve lo posso dire già ora perché è un livello piuttosto nitido, io tornerò compratore sul titolo solo se andrà a ritestare area 8,05. Leonardo. Leonardo è su una situazione di breakout, qui molto onestamente io credevo, sapete che quando ho una lettura sbagliata non faccio mai fatica ad ammetterlo, credevo che il titolo potesse ritornare a 11,22, 11,18 e mezzo, invece qui sembra addirittura pronto per andare a ritestare i massimi di periodo di 11,93 e mezzo toccati il 17 di aprile. Qui la situazione è quasi incredibile perché vedete mettendo un time frame settimanale copriamo gli ultimi due anni e non vediamo oltre l'11,935 resistenze statiche significative e dobbiamo a questo punto mettere un time frame mensile e vedete che comunque anche su un time frame mensile quest'area è area di resistenza fortissima perché abbiamo un 11,84 luglio 2019, 11,89 settembre 2019, 11,88 e mezzo febbraio 2020, quindi significa che se ci fosse una chiusura anche solo superiore a 11,89 magari è meglio ovviamente settimanale essendo questo tutto un time frame mensile lo spazio è addirittura fino a 15,09 poi è ovvio che già magari 12,75 13,04 per carità però quindi è un titolo veramente che va seguito sicuramente il rischio di bull trap c'è anche su Leonardo però il breakout sarebbe un breakout paragonabile a quello che anche se non si parla di massimi storici magari ci sarà occasione di vederlo nel video di riepilogo settimanale dei titoli fuori del Fuzzimib mi viene in mente quello che è capitato su Buzzi poi ve lo farò vedere con calma. Mediobanca, sono usciti i dati di bilancio che sono piaciuti molto titolo addirittura sui massimi di periodo ma vedremo di che periodo a 12,18 e qui devo andare direttamente su un time frame mensile perché se voglio trovare dei livelli di prezzo superiori all'attuale e indicarli come possibile obiettivo devo tornare a maggio 2008 13,57 aprile 2008 13,84 è ovvio che arrivare a livelli così importanti senza prima una correzione che adesso peraltro non vedo diventa molto difficile. Qual è la difficoltà del mercato in questo momento? che se noi compriamo un titolo come Mediobanca possiamo auspicarci di avere una, due, tre sedute ancora di rialzo ma poi bisogna fare anche per Mediobanca i conti con l'ipercomprato. Moncler, ah scusatemi ovviamente al momento lo stop profit è un po' larghino 11,62 poi se sale anche la prossima settimana personalmente lo alzerei a 11,99. Moncler devo dire che in questo caso ha cambiato tutto la semestrale a me non ha fatto impazzire però devo riconoscere che ha pur sempre 400 milioni di euro in cassa nonostante dividendi per 300 milioni e l'utile netto seppur è stato in calo per il beneficio fiscale che aveva avuto per l'acquisizione di Stone Island. Ha lasciato in conseguenza della semestrale un gap aperto a 62,06, si è portata Moncler subito già da giovedì sopra la media mobile a 50, 63,5 e 163,73 ha fatto un po' una spinning top venerdì dopo un massimo a 66,58 ha chiuso a 65,38 in realtà non credo possa tornare sui massimi di periodo di 69,14 massimo del 3 di maggio ma il target probabilmente può arrivare a 67,34, 67,52 è ovvio che operare su Moncler con questo gap enorme presuppone uno stop per chi entra adesso non oltre 63,98 è vero che ci sono anche le medie mobili ripeto a 100, 63,73 a 50, 63,53 ma il gap è a 62,06 quindi molto molto ampio. Nexi, ecco Nexi io sapete che ho mille Nexi in portafoglio ecco sia chiaro perché io lavoro con i pesi per cui nell'overnight non ho mai dei controvalori pazzeschi però quello che vi voglio dire è che finalmente e ve lo sto ribadendo da diverso tempo, vedo Nexi pronta per un'accelerazione a rialzo. Venerdì ha chiuso praticamente sulla media mobile a 200, 7,80 la chiusura, media mobile a 200, 7,802. Abbiamo un massimo di giovedì a 7,844 poi il massimo della quasi gravestone doji del 17 di aprile 7,91,6 per un massimo del 7 di marzo a 8,148. Ovviamente è un titolo che ha deluso tantissimo gli investitori per cui io non incremento non ho intenzione di stoppare stretto, al momento direi addirittura mi preoccuperei solo se perde le medie mobili a 107,43,8 e a 57,42 e mezzo e però è un titolo sicuramente da seguire. Pirelli invece è in una situazione forse ancora più positiva perché la trimestrale probabilmente è piaciuta molto e vedo il titolo a 4,96,6,4,96,8 e poi sui massimi di periodo 5,058,5,062 ma qui dobbiamo fare attenzione all'ipercomprato perché i target che vi ho indicato possono essere raggiunti però poi c'è bisogno di una fase di consolidamento. Ecco in alcune situazioni come questa su Pirelli mi viene più facile indicare un'area di reingresso e qui parlerei di area 4,60. Poste italiane. Allora devo dire che è un po' sorprendente la shooting star quasi gravestone doji del 25 di giugno in seguito anche qui ai dati semestrali. ha lasciato un gap aperto a 10,23 che non è stato chiuso per un tick mercoledì avendo fatto un minimo a 10,24 nonostante ripeto la shooting non mi sia piaciuta il massimo di 10,575 può essere tranquillamente raggiunto. Poi mettiamo un time frame settimanale per vedere dei livelli successivi di obiettivo direi che potremmo parlare di 10,73 prima settimana di aprile 2022 e poi 11,13 ultima settimana di febbraio 2022. In questo caso ovviamente il pericolo è dovesse andare a chiudere il gap 10,23 e accelerare il ribasso a quel punto avrebbe un primo obiettivo a 10,06 e poi 9,96 2,9 94 e 2. Prismian ecco per carità grande rialzo giovedì recupero della media mobile a 200 35,82 e della media mobile a 50,36,33 e della media mobile a 100,36,66 ma già con il meno 2 quasi di venerdì di nuovo sotto la media mobile a 100,36,64 e quella a 50,36,35. Questo significa che per le prossime sedute Prismian si muoverà molto presumibilmente in trading range tra 35,11 e 37 e 43. Ricordati qui siamo di fronte a un titolo che ha fatto un massimo di periodo 47,34 nella seduta proprio di venerdì però dopo un minimo in trading range tra 45,63 anche perché anche Ricordati ha pubblicato la propria semestrale e qui stiamo tornando su livelli che non vedeva da diverso tempo perché per tornare a massimi superiori a quelli toccati questa settimana dobbiamo andare alla terza settimana di aprile del 2022 48,71 era il massimo di quella settimana diciamo che ipoteticamente ricordati può arrivare fino al massimo della prima settimana di aprile che è 49,83 credo che ci possa arrivare sì però diciamo vedo più probabile un magari appunto 48,71 un 49,83 mi sembra proprio molto molto ambizioso per la gestione delle posizioni in essere direi che una chiusura inferiore a 46,16 farebbe scattare uno stop profit per chi è rimasto fuori dal titolo la prima occasione probabilmente la chiusura del gap lasciato aperto 45,28 saipem io continuo a pensare qui scusate che c'è la banda di bollinger che è un po' in bag su saipem che quest'area 1,50 sia area di distribuzione ovviamente come vi ho già detto ne avrò conferma almeno sotto 1,41,55 con primo target 1,39,55 poi 1,36,1 1,3505 e medie mobili a 100 e a 50 1,33,4 1,33 se rompe a rialzo quest'area dove può arrivare può arrivare fino al massimo della shooting stall del primo di marzo 1,60,95 qui è uno dei pochi titoli che vedo più in difficoltà perché dopo la spinning top di giovedì con un massimo di breve periodo a 4,96 ma una chiusura a 4,85,6 sotto la media mobile a 100,4,88 e mezzo quello che è accaduto venerdì non è bellissimo perché chiude appena sopra la media mobile a 200 cioè chiude a 4,80 su media mobile a 200 4,7,9,85 qui il mio timore è di un ritorno a 4,75 poi in area 4,70 il gap a 5 sul minimo del 16 di giugno non è stato chiuso avendo fatto un massimo giovedì a 4,96 non è ancora detto ma vedo una situazione leggermente più pericolosa stellantis abbiamo finito le parole tra l'altro è partita giovedì quando poi magari scrivetelo nei commenti se mi sbaglio in realtà abbia pubblicato i dati mercoledì comunque ha rotto irrompibile il livello di massimi del 6 di marzo è stato a 17,786 venerdì ha fatto 18,688 e devo dire che a questo punto ormai l'obiettivo sono i massimi storici della seconda metà di gennaio 2022 1935 vediamo la situazione di rsi 69 può andare ancora bene stocastico 91 è davvero molto tirato io direi che comunque sotto 18,186 massimo di giovedì andrei in stop profit sul titolo perché sinceramente mi sembra che ci sia una situazione tecnica davvero molto tirata stm è stato l'altro titolo grande protagonista poi ce ne sono stati tanti assieme a stellantis della settimana soprattutto giovedì con dati semestrali pubblicati prima di apertura discesa forte iniziale a 44 42 sul mini sul sui minimi di giornata fatti appunto nei primi dieci minuti poi numero rottura di 47 73 massimo di periodo chiusura di tour a 50 48 livelli che non vedevamo vi devo prendere un mensile ma bisogna veramente tornare indietro addirittura febbraio 2001 venerdì purtroppo ha corretto molto diciamo che era giusto provare ancora mantenere per chi avesse ancora avuto il titolo però una chiusura sotto 47 73 prudenzialmente dovrebbe farmi uscire dal titolo e credo che il movimento al di là del bilancio bene ma non benissimo lo definirei è è dovuto tutto agli algoritmi buona parte degli algoritmi diciamo telecom italia ecco mi ha un po' illuso perché soprattutto dopo la saluta di giovedì pensavo ormai il titolo indirizzato in area 027 e poi sulla media mobile a 200 027 2 il mercato sta aspettando risposte ovviamente a tutta la vicenda che ben conosciamo al momento io ho ancora il titolo lo mantengo senza problemi un alert me lo può dare la perdita del minimo del 18 di luglio 0 25 81 anche perché a 0 25 83 transita la media mobile a 50 e a 0 25 78 la media mobile a 100 comunque al momento credo sia 0 25 81 0 27 23 media mobile a 100 il trading range in cui si muoverà il titolo tenaris ecco tenaris adesso bisogna iniziare a fare un po attenzione perché ha raggiunto dei target di prezzo molto importanti c'è ancora la possibilità di 15 23 micro gap 15 24 e mezzo poi al limite 15 e 60 però il titolo è in ipercomprato e se qualcuno di voi avesse ancora in portafoglio tenaris che sia 14 69 che sia la media mobile a 200 14,6 sono livelli interessanti per uno stop profit chi è rimasto fuori dal titolo qui lo posso dire chiaramente non dovrebbe interessarsi prima di area 14 in realtà c'è un doppio minimo a 13 97 ma è quello che farò io terna è una situazione simile a snamret e gas perché sta facendo fatica di periodo abbiamo questa shooting star il 24 luglio massimo 7 89 6 chiusura a 7 82 il 27 luglio massimo a 7 88 2 chiusura a 7 73 e 2 e giovedì adesso è fondamentale la tenuta di 7 66 6 sotto questo livello si va direttamente a 7 56 8 e poi a 7,5 108 a rialzo mi sorprenderebbe ci riuscisse però non credo oltre chiusura il gap lasciato aperto sul minimo del 16 di giugno 8,024 unicredit ecco unicredit è in una situazione che io valuto simile a quella di banco bpm ovvero nonostante sia stato probabilmente il bancario più forte da inizio anno dopo la shooting star del 26 di luglio 23,295 massimo di periodo usura 22,555 mi dà l'idea che ha bisogno di una fase di consolidamento dove può arrivare questo consolidamento 21 e 70 21 e 66 poi eventualmente 21 e 32 per cui se fossi fuori dal titolo non avrei problemi ad aspettare se avessi il titolo diciamo che magari 22 21 22 0 15 sarebbero livelli opportuni per uno stop profit concludo con unipol che invece ha fatto un massimo di periodo proprio venerdì a 5,11 8 ha chiuso il gap lasciato aperto sul minimo del 19 di maggio quello diciamo predividendo 5,088 e unipol invece mi dà l'idea che possa arrivare fino a 5,19 e poi 5,23 qui dobbiamo prestare molta attenzione all'ipercomprato di breve siamo 88 di stocastico e 85 di rsi uno stop profit io valuterei essere diciamo consigliabile nel senso io ho unipol se mi doveste chiedere dove applicheresti uno stop profit direi sotto area 5 e mi piacerebbe aspettare il titolo per un rientro in area 4,90 avendo la media mobile a 100 a 4,908 e la media mobile a 50 a 4,88 siccome ve l'ho detto per quello che da dalla settimana prossima rallenterò un po' mi è venuto in mente mentre registravo il video che mi sono dimenticato Hang Seng e Nikkei li metterò nel video di riepilogo settimanale per mid small cap star growth mi scuso con voi di questo però ripeto la stanchezza è tanta siccome non verranno più fatti per alcune settimane video di preapertura il challenge dei 300 la dei 300 like è valido per il video di riepilogo serale di lunedì per cui se questo video supererà i 300 like troverete sul canale lunedì dopo la chiusura del mercato diurno ovviamente il video di riepilogo serale noi però dobbiamo ancora risentirci per il video quello mid cap small cap auguro comunque a tutti una buona domenica